Gli abbandoni selvaggi di rifiuti, spesso ingombranti, avevano generato nelle frazioni ovest dell'Aquila una situazione ingestibile, sia per l'azienda che si occupa di raccolta e smaltimento, la SM, che nella popolazione che ha ripetutamente chiesto in questi anni al Comune di risolveri con un tipo di raccolta diversa. Amministrazione e SM, anche dopo vari incontri con la popolazione, hanno così deciso di sperimentare una raccolta differenziata di prossimità, che ad un mese circa dall'entrata in vigore già sta producendo risultati importanti. Non ci sono stati, infatti, più abbandoni significativi di rifiuti per la strada e molte persone, soprattutto ditte, sono state multate perché beccate dalle fototrappole che si erano installate in prossimità dei cassonetti. Abbiamo deciso insieme ad SM di anticipare un po' i tempi, probabilmente questo all'inizio ha creato un po' di confusione tra i cittadini, sono stati forniti ai cittadini tutti gli strumenti utili per poter iniziare questo nuovo tipo di raccolta, dall'eco-calendario al rifiutologo dove sono inserite tutte le informazioni utili per questo tipo di servizio. Abbiamo deciso di anticiparlo per diversi motivi, perché non era più sostenibile la situazione degli abbandoni che si riscontravano nella frazione di Sassa, per offrire ovviamente un servizio migliore ai nostri cittadini e per aumentare anche quelle che sono le percentuali di raccolta differenziata. Sin dai primi giorni è stato evidente di come questo servizio potesse funzionare e di come effettivamente sta funzionando. La gente ha apprezzato molto il servizio e si è subito organizzata per cominciare a differenziare, anche perché uno degli obiettivi di Comune Azienda è quello di incrementare le percentuali di raccolta differenziata pian piano. Era diventato praticamente insostenibile non poter differenziare. Finalmente riusciamo a gestire meglio la differenziata. Nel rifiutologo riesco a trovare i suggerimenti per i quali ho i dubbi, a volte non so esattamente dove mettere il rifiuto e quindi sì, 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 è molto comodo decisamente.